Il comprensorio del Pramosio si presta a numerose escursioni, alcune facili, altre più impegnative, adatte ad alpinisti esperti. Dopo circa 7,5 km di foresta, la strada si affaccia sui pascoli di Malga-Pramosio-Bassa, a 1521 metri sul livello del mare. Il complesso di casera Pramosio-Bassa è il cuore della Malga. È circondato da uno steccato di legno e sull'entrata troviamo una fontana costruita in legno che offre l'opportunità di riempire la borraccia di acqua fresca. All'interno del recinto troviamo gli edifici principali, la casera con l'annesso bar e la stalla principarmo. Entrati nel recinto possiamo consultare un pannello che ci permette di localizzare e dare un nome alle montagne poste davanti a noi. Verso ovest è anche possibile vedere una piccola chiesetta eretta a ricordo dell'Ecidio del 1944. Il giorno 21 aprile alcuni tedeschi delle SS e alcuni repubblichini, travestiti da partigiani, venuti dalla Carinzia attraverso i nostri monti sopra Paluzza, arrivarono alla casera di Lanza e di Pramosio, qui senza nessun motivo plausibile, massacrarono 22 persone, fra queste c'erano 5 bambini e 2 donne. Dopo altri 50 metri incontriamo la casera Malpasso, 1619 metri sul livello del Maggio. Fra le rocce che circondano la spianata della Malga possiamo anche osservare delle gallerie scavate dai soldati italiani della Grande Guerra per ricavarne dei rifugi. Proseguendo lungo il percorso, lentamente ma costantemente, ci alziamo di quota seguendo l'andamento delle montagne che compongono l'anfiteatro naturale sovrastante la casera Malpasso. Esse costituiscono anche i pasquoli per il bestiame della Malga. Lungo il percorso incontriamo numerosi ruscelli che scendono dalle montagne e anche un piccolo rifugio, scavato nella roccia, dove è stata collocata una piccola statua raffigurante la Madonna. Lungo la salita incontriamo diversi spazi attrezzati per la sosta. Salendo possiamo osservare la flora che ci circonda, ricca di molte varietà, carlina a caulis, o cardo di San Pellegrino, o camaleonte bianco, uva di monte e molte altre. Di tanto in tanto possiamo vedere, lungo i prati che circondano il percorso, le tane delle Marmò. Arrivati al pianoro che precede la casera delle Manze, incontriamo la segnaletica indicante il percorso che porta al passo mondiale. Proseguendo lungo il percorso principale, arriviamo alla casera delle Manze, casera Poccia o delle Manze, a metri 1820 sul livello del mare. Malga, che prende il suo secondo nome dalla caratteristica di essere adibita al pascolo e al ricovero solo di Manze e vitelli. Anche qui troviamo tavolo e panche panoramiche per la sosta e una fontana ricavata nel tronco di un albero che molto spesso però va a casa. Superata la casera, incontriamo un tratto di strada in piano terminante con l'attraversamento del ruscello che è a origine dal laghetto della Malga Pramosio Alta. La strada prosegue con dei tornanti che risalgono l'ultimo tratto rappresentato da un costone erboso che ci porta all'imboccatura dell'anfiteatro il quale racchiude il laghetto e la Malga Pramosio Alta.